Scade alle ore 12 del prossimo sabato 14 maggio, il termine ultimo per la presentazione di liste candidati alle elezioni amministrative che in provincia di Salerno riguarderanno 34 comuni. Tra i più grandi c'è Nocera Inferiore dove si vota per scegliere il successore di Maglio Torquato giunto alla scadenza dei suoi due mandati. In corsa come candidato del Partito Democratico Paolo De Maio, espressione di continuità rispetto al sindaco uscente che dovrà però vincere la concorrenza dell'ex sindaco Antonio Romano, già primo cittadino per il centro-sinistra ed ora esponente civico che conta sull'appoggio anche di liste di aria di centro-destra. Tonia Lanzetta appoggiata da una coalizione civica, Erminia Maiorino di potere al popolo. Anche a Mercato Sanseverino dove è certa la candidatura del sindaco uscente Antonio Somma, un ex primo cittadino Giovanni Romano prova a ritornare sulla poltrona di sindaco in corsa alla candidatura che vede al momento pronti alla sfida anche Carmine Anzalone e Luigi Lupone. Ad Agropoli a sorpresa il sindaco uscente Adamo Coppola ha rinunciato alla ricandidatura dopo uno scontro con l'ex sindaco Franco Alfieri, attualmente primo cittadino di Capaccio che ha scelto di puntare sull'assessore Mutali Passi così come il Partito Democratico, mentre Lega e Forza Italia appuntano su Massimo Laporta, ma tra i candidati c'è anche sostenuto da gruppi civici Raffaele Pesce e unica donna in corsa Elbira Serra. Questi sono i tre comuni più grandi alle urne dove si potrebbe dover ricorrere al ballottaggio per l'esito finale. La data fissata è quella del 26 giugno. Tentano la riconferma anche i sindaci uscenti di Sapri, Antonio Gentile, Paola Lanzara, Castel San Giorgio, tra gli altri i comuni al voto, anche Albanella e Serre accomunati dal recente battaglia contro l'arrivo dei rifiuti dalla Tunisia.